Siamo in 3-4 posizioni in Italia di meglio e in 4 posizioni sono la porta terra del quello e in 4 posizioni sono la porta terra del mondo e in 5 posizioni sono la porta terra del mondo e in 5 posizioni sono la porta terra del mondo e in 5 posizioni sono la porta terra del mondo è arrivato qualcosa di nuovo, io ce l'ho quindi è arrivato è arrivato è arrivato è arrivato